Ognuno 3 è Beatrice Manalpiani Ognuno 6 è Maria Schengel Ognuno 9 è Elisa Zanette Ognuno 10 è Alessia Migliano Ognuno 12 è Capitano E' Elisa Americanzoni Ognuno 15 è Sofia Redola E' Il numero 17 è Silvia Agostino Un cantante analogico, primo cantatore Davide Eteropi E' Elisa Zanette 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 Eseguito 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 Eseguito